Buongiorno a tutti i tifosi della Juventus. Prima di passare alla notizia, cliccate sul pulsante mi piace, iscrivetevi e attivate tutte le notifiche per ricevere le prossime novità sulla Juve. Michel Platini è una leggenda mondiale del calcio, che ha disputato numerose partite spettacolari con la maglia della Juventus. Michel Platini e la Juventus hanno una grande storia d'amore. Platini ha giocato 5 stagioni in Italia, dove ha conquistato numerosi trofei come la Serie A, la Coppa Italia, la Champions League e la Supercoppa UEFA. Platini ha fatto felici i bianconeri negli anni 80. Michel Platini non ha mai nascosto il piacere e l'amore che ha avuto nel vestire la maglia della Juventus. E nelle ultime settimane sono circolati dei rumors secondo cui Michel Platini potrebbe avere un ruolo alla Juventus o addirittura diventare il nuovo allenatore della Juventus, secondo le voci. Durante un evento, in un'intervista, Michel Platini ha risposto alla questione di un possibile ritorno alla Juventus. Michel Platini ha commentato, un ruolo nella gestione? Non ho mai ricevuto un'offerta. Ma tornare alla Juventus dopo più di 30 anni non avrebbe più senso. Le storie d'amore non si vivono due volte. Con questo, Michel Platini ha escluso un possibile ritorno a Torino, almeno per il momento. Lasciate un commento se pensate che Michel Platini potrebbe fare un buon lavoro alla Juventus.